Musica Cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa del mattino allora partiamo subito con il santo di oggi anche perché il santo di oggi è famoso lo conosciamo tutti, lo citiamo spesso è la notte di San Lorenzo dunque il santo di oggi non poteva che essere lui di acone martire, la notte delle stelle cadenti il 10 di agosto il sole tramonta alle 6.06 tramonterà alle 20.20 vediamo il tempo per oggi oggi giovedì 10 avremo un gioco sereno poco nuvoloso con alcune precipitazioni, brevi rovescio temporali pomeridiani sui settori montani però le temperature sono senza variazione di rilievo i venti sono da settentrione il mare sarà poco mosso domani, domani venerdì 11 doveva esserci un tempo perturbato doveva esserci il cattivo tempo invece a quanto pare i modelli hanno rielaborato un po' le previsioni e hanno visto bel tempo e quindi domani venerdì il tempo sarà comunque discreto su tutta la fascia costiera le temperature sono in diminuzione in particolare nei valori massimi però attenzione perché anche qui c'è qualche eccezione perché alcune località della fascia costiera le temperature non diminuiranno comunque i venti saranno a prevalente regime di brezza il mare sarà mosso al mattino poco mosso invece durante il pomeriggio il cattivo tempo scusate il partito il traccio è andato troppo in là allora dicevo il cattivo tempo è stato spostato di 24 ore e dunque dovrebbe essere sabato il cielo sarà infatti regolarmente nuvoloso avremo rovesci sparsi che solo localmente potranno risultare anche di forte intensità le temperature sono in ulteriore diminuzione i venti da settentrioni di brezza tesa o vento moderato sabato il mare sarà mosso quindi attenzione per quanto riguarda la giornata di domenica fino ad almeno la prima parte della prossima settimana avremo tempo stabile e soleggiato e a proposito di pioggia a proposito di acqua di cui c'è tanto bisogno adesso arriva l'invito di Marche Multiservizi a chiudere i rubinetti o comunque ad utilizzare l'acqua davvero con parsimonia e questo è il titolo sul resto del Carlino chiudete i rubinetti appello di Aset e Marche Multiservizi ridurre i consumi oppure saranno guai autobotti già in 30 comuni la pioggia come abbiamo visto non arriva troverete tutte le informazioni sulle pagine interne poi ci sarà lutto cittadino a Fano sabato per l'addio a Bigiorici un saluto da eroe una donna è scesa giù fino al circolino sul San Bartolo una turista nell'area tra l'altro vietata e le è caduto un sasso sulla testa l'ha colpita in testa qualcuno dirà e c'è chi accende fuochi sotto le pendici del collo e questo invece è un altro problema mentre qui sempre sulla prima pagina del resto del Carlino entusiasmo per la Vispesero parliamo di calcio serie D in migliaia alla presentazione della squadra al Miralfiore e poi una spiaggia tutta in bianco illuminata solo dalle candele stasera a Pesero grande serata con l'appuntamento con le candele su tutto il lungomare poi invece i giorni del festival stasera c'è la prima della sedio di Corinto Nino una bellissima soprano il ROF Rossini Opera Festival si apre con nuove stelle Roberto Abbado dirigerà con il tutore perché ha un'infiammazione al braccio destro Michele Mariotti domani fa il suo esordio a Salisburgo con Placido Domingo la prima pagina invece del Corriere Adriatico è tutta per Pesero a lume di candela ecco la notte più attesa dell'anno si punta al record delle 40.000 presenze sul litorale concerti e sfilate oltre alle cene romantiche dunque sale il sipario per la festa dei tre giorni è l'evento più atteso di Pesero quella dell'estate uno dei principali su tutto il territorio marchigiano che quest'anno potrebbe richiamare lungo i 7 chilometri di spiaggia più di 40.000 persone poi c'è anche un appendice che riguarda la solidarietà per il San Bartolo l'evento certo ma anche la campagna di solidarietà per la falese che non c'è più devastata dal rogo l'offerta minima è un euro per la cartolina di Baronciani simbolo del disastro questa è la prima pagina del Corriere Adriatico entriamo nelle pagine interne questo è il resto del Carlino lutto cittadino e bagnini in divisa la Dio Abigio sarà da eroe mentre Oasis Piagge dice punire per legge chi fa il bagno quando è proibito quando c'è la bandiera rossa e Mattia De Beneditis della lista civica noi giovani dice sarebbe bello organizzare alla fine di ogni estate una giornata in consiglio comunale per premiare tutti quei bagnini e soccorritori che si sono distinti durante la stagione estiva e sarebbe altrettanto bello un encomio a Pierluigi Ricci e poi sul Carlino c'è l'appello lanciato da Enzo Maggi presidente dell'associazione Mare Dentro per una colletta per pagare le spese del funerale chi vuole può fare una donazione sull'Iban della sorella di Bigio Cristina ci sono anche i numeri le coordinate di riferimento che potrete trovare sul giornale oggi in edicola il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano anche qui la città in lutto per Bigio Ricci negozi chiusi per l'esequia De Beneditis propone un riconoscimento ai bagnini che si distinguono nei soccorsi il funerale sarà sabato sabato mattina alle 10 a San Lazzaro nella chiesa Gran Madre di Dio il cordoglio sulle spiagge è arrivato fino alla Liguria mentre a Torrete a Torrete di Fano ieri mattina sono state sospese le ricerche del bagnante che si credeva disperso perché nessuno manca all'appello c'è stata una rapina ieri alla banca di credito cooperativo di Fano in Viale Italia entra avviso scoperto facciamo due operazioni ha detto poi punto a una pistola finta al direttore dell'agenzia un quarantenne dal fisico asciutto vestito in jeans e maglietta si è portato via un bottino di quasi 4.000 euro tutto è successo intorno alle 9.50 sul Corriere stessa notizia bandito solitario in banca agisce con il volto scoperto è stato visto poi allontanarsi a piedi i suoi tratti ripresi da una telecamera diffusi alle forze dell'ordine ma attenzione perché rapinare una banca oggi grazie alle cassaforti a tempo e la disponibilità di contante misurata al fabbisogno della clientela è diventato sempre più rischioso e poco redditizio rischioso perché i sistemi di videosorveglianza all'interno e all'esterno degli istituti di credito favoriscono non poco l'identificazione dei rapinatori mentre raramente in cassa sono disponibili grosse cifre la pagina di Fano invece del Corriere Adriatico è per la questione Santorelli e il conflitto di interessi adesso c'è una querela contro l'ex presidente della Fano Fortuna parliamo di aeroporto a Fano per il conflitto di interessi Fano Fortuna gli attribuisce un piano preordinato per dare la gestione a Eagle Aviation l'ex amministratore accusato di aver occultato i suoi ruoli nella lituana Wab Baltic Trust Company Così Marotta sta morendo siamo di nuovo sul resto del Carlino l'accusa è dell'ex PC Sauro Olivieri che critica la nuova viabilità le strade sono deserte i negozi pure ladri rubano 4 chilometri di cavi in rame è successo a Cagli letteralmente spompato l'impianto fotovoltaico della cittadina e hanno provocato un danno da 70 mila euro fino alle 20 del 7 dice l'impianto produceva fino alle 8 di sera dunque nell'altra sera produceva regolarmente energia elettrica dopodiché tramite il nostro sistema di monitoraggio è stata rilevata una anomalia produttiva e verso le 9.30 del mattino seguente l'impianto durante il sopra il luogo insomma si è visto che era stato praticamente distrutto nel senso che erano stati portati via tutti questi sono stati aperti i pozzetti dai quali sono stati sfilati i cavi di rame sotterranei mentre a Fossombrone c'è stata paura in una famiglia che ha rischiato davvero di fare la conoscenza vis-à-vis con i ladri alle 2.30 di notte hanno ripulito una casa a Fossombrone cresce la richiesta adesso di allarmi e anche di telecamere poi adesso figuriamoci con il caldo che fa finestre tutte aperte è un attimo è un gioco da ragazzi per i ladri anche se il sonno è un po' più leggero attenzione e quindi gli va un po' più dura festa del Duca siamo nella pagina di Urbino che spettacolo un biglietto e tanti sconti musee e mostre a prezzo agevolato per chi partecipa alla rievocazione che è in programma appunto nella città ducale opposizione invece su tutte le furie Fermignano per il furlo a piedi perché l'idea dicono è stata nostra piazza aperta contro il sindaco mozione a maggio manca onestà intellettuale dalla valle del Cesano Giamburrasca Festival in tre sere Mine e Lucio Battisti danno il via sul palco i due artisti interpretati da Luisa Corne e Cristian Chico Marini dunque tre giorni di musica d'autore Marotta s'accende per questa edizione del Giamburrasca Festival che si terrà da stasera sabato in piazza dell'unificazione a Marotta le foto con il tablet siamo a Fabriano poi la tragedia neonata morta un giallo di 11 ore gli inquirenti devono ricostruire quello che è accaduto dal parto alla corsa verso l'eliambulanza dunque che cosa c'è scritto in questo grafico lunedì 7 alle 5.05 la bambina nasce in casa la mamma è all'ottavo mese di gravidanza dunque nasce prematura alle ore 17 andiamo di qua alle ore 11 sempre del 7 di agosto la bambina è stata a casa accudita da mamma e papà poi 18 minuti il tempo trascorso dal peggioramento delle condizioni di salute all'arrivo dell'elisi occorso dove è stata intubata poi dai sanitari 14 minuti il tempo del vol da Fabriano al Salesi nelle ambulanze alle ore 17 la bambina muore e quindi adesso sono indagati i genitori ma come dicevamo ieri è un atto dovuto è una storia che potrete leggere sul Corriere Adriatico la pagina di Fabriano da Senigallia invece c'è la campionaria ma la sosta è salva bancarelle trasferite a Piazza del Duca i parcheggi dello stadio restano liberi dal 23 al 30 agosto sono previsti 95 stand espositivi da Falconare invece un'onda anomala guardate qua sotto un'onda anomala sferza la spiaggia di Marina il mare ha raggiunto la prima fila di ombrelloni meduse e rischi in acqua mentre l'apertura è per gli spettacoli attrazioni e laboratori in centro c'è la notte bianca dei bambini le ultime due pagine sono sempre dal Corriere Adriatico per la cronaca di Pesaro prostitute e droga il sindaco Ricci elogia il blitz il sindaco plaude al tempismo della maxi retata congiunta di polizia carabiniera e municipale al parco della stazione scovati in una siepe 60 grammi di stupefacenti e due ovuli di droga nei guai un richiedente asilo politico e un clandestino pakistano mentre l'ultima pagina è per sempre da Pesaro questa notizia questa vicenda ci provano con quattro ragazzine poi rubano i loro cellulari furto e ricettazione denunciata una baby gang di nigeriani e marocchini sono quattro minorenni denunciati per furto però è una storia che inizia alla notte del 13 luglio e che viene raccontata questa mattina appunto sul giornale poi un camion che perde una rondella in A14 ferisce una donna nel parcheggio paura e disagio vicino all'autogrill è successo ieri mattina intorno alle 9.30 un furgone che trasportava materiale di carpenteria sulla A14 ha perso una parte del carico sulla carreggiata che da Fano porta a Pesaro all'altezza dell'autogrill Foglia Ovest bene ci fermiamo qui la rassegna è finita noi ci vediamo stasera nel telegiornale delle 20.30 l'informazione invece con i giornali torna domani mattina come sempre alle 7.30 a voi tutti l'augurio di una buona giornata arrivederci a presto